Ci impone di fare un passo indietro nell'anno in cui noi abbiamo il piacere di celebrare il settantesimo anniversario del voto alle donne. Ecco, il 1946 fu lo spartiacque, c'è un prima e un dopo 1946. Prima del 1946 le donne erano mogli e madri, così le voleva il fascismo. Mogli e madri non dovevano avere un ruolo sociale né tantomeno un ruolo politico. Credo che chi è venuto prima di quella data abbia fatto tante battaglie che oggi non sono riconosciute a sufficienza. Quelle donne che ci portarono al voto sono state purtroppo dimenticate, sono state misconosciute. E vi dico in anticipo, come notizia, che faremo qui alla Camera invece una sala dedicata alle donne. La prima donna sindaca, la prima donna deputata, la prima donna ministra. In questo Parlamento non c'è uno spazio dedicato al percorso femminile nelle istituzioni rappresentative. Ci sono busti, tutti uomini, ci sono ritratti, tutti uomini, ma non c'è la storia del percorso delle donne nelle istituzioni. E lo faremo in occasione del settantesimo anniversario del voto alle donne.